Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, scusatemi se sono un po' rosso, wow c'è una guancia più rossa dell'altra, incredibile, comunque scusate il fiatone che sono appena tornato da un calcetto e mi sono dovuto fare super velocemente la doccia, devo uscire che tra mezz'ora inizia Modena Gubbio e la vado appunto a vedere allo stadio e quindi sono in stra ritardo, ci vediamo tra poco eccoci ragazzi, direzione stadio, c'è anche Fedex, abbiamo fatto un video, lui è quello simpatico del gruppo, non so se era capito come se lui vincesse, è vero Fede vinci le schedine? certo, io ho vinto le schedine, quanta hai vinto l'ultima? 40 euro, ma in quanto mi hai vinto? 0, come la mia vita, 0 pronostico, pronostico allora, pronostico io dico 1x basta, risultato? risultato 1x risultato, raga non ce la può fare scusate, risultato esatto 2 a 1 preparateli al cheat, preparateli al cheat, la finissrata, 3 a 1 per il dubbio sicuro raga, io gliel'avevo detto che aveva sbagliato tu, ma vero Fede? ha sbagliato, ha sbagliato, lui ha sbagliato no, ero intruso cheat, a fine video, aspettate oh figlio, perché ti han perquisito? perché ti hanno trovato delle armi? non dirlo questo nel video, cazzo no, ero intruso che erano indescriviti non dirlo, è un'altra cosa poi appartemasi è un'altra cosa è un'altra cosa che è un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa perché ha sbagliato Marta Rei! Marta Rei! Si stava fa a cacci guardare Volevo cantare! Non хотte seguire mai playing! Fus59колi Marta Rei! Ora andiamo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Faccio le contamenta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma non gliel'ha contato. No, Fede, non gliel'ha contato, guarda, no. No, aspetta, aspetta. È due a due, casco. E là c'è scritto ancora due a due. Guardi, cos'è successo? La parola. Ma c'è la barra. La barra. Oh, io voglio il bar. Gio out of bed. Sì. Tre, due, due, centesimi. Tre, due. Sì. Vai, ragazzi. Sotto la curva del gol, giocheravo per voi! Fino alla fine, avanti Giardini! Fino alla fine, avanti Giardini! Armon, avanti Giardini! Armon, uuuuuh! Armon, uuuuh! La scresa, la scresa, la scresa! Armon, uuuuh! Ciao Stadio! Commento caldo di questa epica vittoria Sofferta ma verità Stai ballando Filo? Stai facendo un balser? Sto ballando in onore Non hai notato questo E via Neanche saluti i miei iscritti Ho perso il pronostico iniziale Povero Filo Ciao Filo Niente ragazzi Siamo finiti qua Grande Halby Sei stanco Giornata estremamente difficile Allora ragazzi Partita andata bene Comunque tutto sommato 3 a 2 al novantesimo Mi è piaciuta Ci siamo divertiti molto Realmente sentirete un po' di casino Perché insomma non ho il microfono Non sono ben attrezzato Non ho portato Purtroppo non mi facevano portare L'attrezzatura dentro allo stadio Quindi ho dovuto utilizzare solo il telefono Comunque spero che questo video Ti sia piaciuto Ormai non c'ho neanche più voce Quindi chiudo in fretta il video Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao